Commencement address dottor Alberto Minali, Group Chief Financial Officer di Assicurazioni Generali S.P.A. Signor Presidente dell'Università, magnifico Rettore, orgogliosi genitori di questi ragazzi, ragazze e ragazzi laureati. Quando l'amico Professor Lazzari mi ha chiesto di tenere il commencement speech qui di fronte a voi, ho risposto immediatamente con un sì e con un grazie perché sapevo che sarebbe stato per me un momento veramente molto proficuo, un'opportunità di ripercorrere la mia vita personale e professionale e anche spero che sia un momento davvero utile per voi. Preparare un commencement speech è veramente molto difficile, è un grande onore ma anche una grande responsabilità perché io spero che questi pochi minuti e queste parole che cercherò di dirvi risuonino poi nelle vostre menti ma soprattutto nei vostri cuori quando affrotterete il mondo del lavoro. Avete completato con successo un ciclo formativo molto impegnativo e veramente complimenti, complimenti davvero. Affrontate adesso il mondo del lavoro io credo con quella trepidazione, quell'ansia, con quella paura che mescolano un po' insieme il senso di un tempo che sarà e che non è ancora stato e il distacco da quello che invece avete già vissuto. E affrontate questo mondo del lavoro in un momento di crisi. Come sapete la teoria economica insegna che le crisi sono di due tipi, congiunturali o strutturali e quelle strutturali vengono chiamate entropiche e secondo alcuni studiosi del pensiero economico la crisi che noi stiamo vivendo è effettivamente una crisi entropica ed è una crisi che nasce secondo alcuni dall'eccessiva finanziarizzazione del sistema capitalistico mondiale e da una separazione che molti anni fa non c'era tra il capitalismo delle cose reale e il capitalismo della finanza di cui io sono un modestissimo esponente. Secondo altri invece la crisi è una crisi di valori, una crisi valoriale, quindi una crisi che richiede un ripensamento del nostro agire, un interrogativo su noi stessi e questa crisi è molto grave perché cambia i meccanismi, i pattern culturali, il nostro modo di agire, si insinuano i meccanismi di formazione delle aspettative, nella nostra motivazione, nel nostro agire economico e l'homo economicus che qualche volta viene insegnato ancora nelle università non esiste in realtà perché è un homus che come dire massimizza la propria utilità cercando di massimizzare quella collettiva ma così sappiamo non funziona. Questa crisi è molto pervasiva, mina la radice del nostro sistema economico. Come sapete la parola crisis in greco voleva dire separazione ma voleva dire anche decisione, giudizio, scelta. Quando il medico Ippocrate nell'antichità parlava di momento critico era il momento in cui il paziente poteva vivere o morire, migliorare o peggiorare. Ebbene noi viviamo questo momento critico e qui si fa spazio io credo immediatamente un concetto che ci consente di superare, ne sono fermamente convinto, questa crisi che è il concetto della responsabilità. È una responsabilità che io credo voi percepiate almeno sulla pelle oggi e mi auguro veramente che voi la sentiate anche in futuro in ogni giorno della vostra vita personale e professionale. E quindi la crisi attuale dovete viverla non come una cosa che ci condanna come dire al fallimento ma una grande sfida, una grande opportunità, un modo di interrogarsi dicevo su noi stessi e sul nostro modo di agire. E quindi la domanda che voi forse mi potreste fare è qual è la nostra responsabilità? Di che cosa voi sarete ritenuti responsabili? E la risposta è banale forse, semplice ma estremamente impegnativa. Voi siete responsabili di essere voi stessi. Direi che per la vostra crescita personale e professionale voi dovete iniziare un cammino senza tanti nascondimenti, senza tante false illusioni, false speranze, senza continuare a lamentarsi. È questo cammino che vi conduce da voi stessi a essere voi stessi e a ciascuno di voi, questo ve lo garantisco anche per gli errori che ho fatto nella mia vita professionale, a ciascuno di voi è offerta una via particolare che sta di fronte a ciascuno di voi perché ciascuno di voi ha un carisma, ha dei punti di forza, dei punti di debolezza e di fronte a voi ci sta una strada che è solo vostra di nessun altro e quindi nessun tentativo di imitazione, di scimmiotatura della vita degli altri, di fare quello che anche gli altri hanno fatto. Dovete essere capaci di non imitare il percorso che è stato già compiuto e di ripetere la vita degli altri e fra l'altro non dovete nemmeno vivere nella pretesa che la vostra realizzazione sia a scapito o a costo di quella degli altri, ciascuno di voi ha una strada davanti e la dovete percorrere, non c'è come dicevo un'unica via, ce ne sono molte e ciascuno ha la propria e questa è veramente una conferma dopo un po' di anni di attività nel mondo professionale che mi sono formato, ho visto tante persone partire nelle loro vite professionali in maniera strana ma ciascuno ha trovato la propria via. Quindi per compiere questo cammino, per arrivare a voi stessi dovete in realtà partire da voi stessi ed è quello che è successo a me quando giovane laureato di un'altra prestigiosa università sono andato quasi 24enne in America per iniziare un PhD in economia, avevo vinto un'importante borsa di studio e 6-7 mesi dopo capì che non avevo dentro quella forza e quella voglia di dedicarmi per sempre alla ricerca economica e quindi contrariamente a quello che tutti mi suggerivano decisi di tornare indietro. All'aeroporto c'era solo mio padre che mi aspettava quasi come il padre misericordioso della parabola evangelica ed io ero un po' come dire il figlio che aveva commesso un grosso errore nel senso che non ero andato avanti. Immediatamente dopo, sette giorni dopo mi arrivò dall'istituto bancario che mi aveva finanziato e che poi divenne uno dei miei datori di lavoro, mi arrivò una lettera con la quale mi si chiedeva di ripagare tutta la borsa di studio che avevo consumato e quindi io partì nella mia vita professionale con un debito, meno 20 milioni di lire che mio padre di nuovo mi aiutò a ripianare immediatamente. Partendo con questo debito dovevo di nuovo rimettermi in cammino ma sentivo effettivamente il fallimento, ero tra i più bravi laureati dopo il professor Lazzari dell'università e cercavo quasi di imitarlo ma non ce la facevo e mi ero come dire tra virgolette sputtanato con tutti i colleghi dell'università, ero partito con tante speranze, in realtà ero tornato con cocenti delusioni. Passai un anno molto strano, tant'è vero che un mio amico professore mi consigliò anche una visita psichiatrica, poi invece decisi di mandare il curriculum alle generali e per straordinaria coincidenza iniziai lì. Questa è la responsabilità di cui vi sto parlando, dovete avere la capacità e la responsabilità verso voi stessi di tornare indietro se la strada non è quella giusta, non c'è nessun fallimento fatale come diceva Winston Churchill e ricordava prima il professore e questa responsabilità è quella che vi consente di raccogliere tutte le sfide, tutte le opportunità, la vita ve ne presenterà tantissime, vi consentirà anche di difendere le vostre idee però senza imporle, di andare avanti quando tutto cade a rotoli e pensate che non c'è nessuna speranza. In realtà c'è sempre una via davanti a voi e per quanto misera possa sembrarvi la vostra operosità, il vostro lavoro, il vostro quotidiano fare qualcosa sarà il vostro fare qualcosa, sarà proprio della vostra capacità, delle vostre ambizioni, dei vostri desideri ed è questa la cosa importante che voi realizzerete nel vostro quotidiano piano piano, lentamente, inesorabilmente, la vostra unicità. È chiaro però che questa responsabilità, ne sono convinto, richiede che voi sappiate intessere relazioni umane sane, sincere, non usate la calunnia per fare carriera, la menzogna, la falsità e io mi sono convinto che tante volte i conflitti che ci oppongono gli uni agli altri non sono altro che il risultato dei nostri conflitti interiori, della nostra problematicità è risolta e noi dobbiamo metterci in pace con noi stessi per poi poter intessere relazioni con gli altri da persone veramente rappacificate e trasformate. E come ho notato tante volte nella mia carriera noi commettiamo l'errore di non dire ciò che pensiamo e di non fare ciò che diciamo e quindi creiamo nei nostri comportamenti una incoerenza che cela il nostro peculiare interesse, il nostro particolare come diceva il Guicciardini e facciamo spesso questo errore per cui perdiamo di vista l'interesse superiore. Questa incoerenza avvelena i rapporti tra le persone, i rapporti tra gli uomini, tra moglie e marito, tra gli amici e voi avete la responsabilità di non farvi avvelenare da questa incoerenza e che la vostra vita non sia avvelenata da questa incoerenza. Altrimenti la vita diventa un teatro, una giungla di continue imboscate e onestamente è molto difficile viverla. Molte volte ho visto nella mia carriera persone che si sono adagiate sulle idee del capo, quasi come una sorta di plastilina che prende la forma delle idee del capo pensando che così si possa effettivamente fare carriera e questo è il rischio assoluto che voi dovete evitare. Per fare tutto questo c'è una ricetta antica che è il dono della sapienza. La sapienza non è sapere le cose, ne sapete già tante alla vostra età. La sapienza è cercare di interpretare tutte le cose che la vita vi farà vivere con un'interpretazione univoca che è la vostra storia, che è il vostro cammino, che è il vostro andare avanti. E quindi questo dono della sapienza, alcuni ce l'hanno per grazia, altri per natura, ma tutti lo possiamo acquisire con uno sguardo veramente aperto sul mondo. E questa esperienza e questa sapienza sono fondamentali soprattutto quando vivrete dei momenti di difficoltà. Io vi auguro veramente di cuore che voi viviate solo momenti belli, ma vi dico che la vita purtroppo vi riservirà anche dei momenti difficili, dei momenti dolorosi, dei momenti in cui si perde la bussola. E questo ve lo dico anche con un'altra esperienza. Prima di tornare alle generali come chief financial officer del gruppo, ho lavorato come imprenditore. Come sentite dal mio accento, sono un uomo del nord-est e quindi abbiamo, come molti di voi qui, un po' questa voglia di trovare la sfida. E ho messo in piedi un fondo edge, l'ho portato avanti tra mille difficoltà, e dopo due anni e mezzo ho raggiunto un certo successo professionale. Gli investitori che avevano investito nel mio fondo, immediatamente, tutti, quasi contemporaneamente, per la loro crisi finanziaria, hanno tirato via i soldi, i capitali dal fondo. Io sono precipitato a un livello di asset under management molto molto basso. Ricordo benissimo il giorno in cui entrai a Lugano dove avevo il mio ufficio e vedi i miei colleghi, i ragazzi che io avevo assunto, piangere perché sapevano che era molto difficile andare avanti, la nostra esperienza professionale poteva finire e il loro lavoro poteva veramente venire spazzato via dalla crisi. E allora ho ripreso di nuovo la strada, il cammino di cui vi parlavo, sono tornato di nuovo sulla strada a cercare capitali, ho battuto tutte le capitali europee, ho avuto la fortuna anche di una grande forza vicino a me, di una persona che siede in seconda fila oggi qui, che è mia moglie, che nei momenti di difficoltà non è mai stata dietro a me ma sempre al mio fianco. E quelle notti, che lei ricorda benissimo, in cui veramente non sapevo come portarla fuori sta crisi, beh, quelle notti sono state veramente un marchio distintivo del concetto di responsabilità. Bisogna prendersi rischi, bisogna assumersi responsabilità. Ed è, se ci pensate un attimo, lo stesso ardore che ha condotto Ulisse a cercare di traversare l'oceano, alla ricerca della conoscenza, della profondità delle cose, ed è la stessa spinta che dovreste sentire voi oggi. È un po' come Ulisse un verso che io ripeto sempre a me stesso quando devo parlare a qualcuno, spero che ciascuno di voi possa dire misi me verso l'alto mare aperto, che è il mondo che voi giovani avete davanti. È importante, e sto per chiudere, quindi la vostra pazienza l'ho già, ne ho già abusato troppo, è importante che voi viviate bene il tempo che vi è dato di vivere. Non torna. Voi sapete che il tempo, nell'antica filosofia greca, veniva chiamato con due nomi diversi. Kronos, un padre crudele che aveva paura dei propri figli, che ha mangiato e divorato i propri figli, e se ci pensate un attimo questo tempo cronologico in cui noi viviamo è un po' come Kronos, è una camicia di forza, siamo tutti frenetici, tutti abbiamo poco tempo, le nostre relazioni umane sono anche spesso, come dire, corrose da questo tempo, che sfugge. Però c'è un altro tempo, è il Kairos, è il tempo delle opportunità, è il tempo dell'azione, delle opportunità che la vita vi offrirà. Quindi voi dovete sviluppare questa capacità, e non so come spiegarlo, ma dovete sviluppare la capacità di cogliere tutte le buone opportunità, tutto il Kairos nel tempo cronologico che vi è dato di vivere. Ebbene, non vorrei apparirvi troppo entusiastico, troppo trionfalistico, però sono molto contento di essere qui oggi di fronte a voi, ricordo un po' i miei momenti di Laura di quasi 27 anni fa, e sono veramente, veramente convinto che voi avrete un ruolo da vivere, non da recitare, da vivere sul palcoscenico di questo mondo, qualunque sia il vostro palcoscenico, qualunque sia la strada che voi prenderete. E quando fra molti anni vi troverete, come capita spesso a me con i miei colleghi di università, in qualche cena e ciascuno rivive le proprie esperienze, ebbene vi dico che il più felice di noi non è quello che ha più soldi in banca o che appare di più sui giornali, il più felice di noi è quello che ha autenticamente vissuto la sua storia. Quindi sviluppate questa autenticità e questa unicità. Chiudo questo mio intervento brevissimo e spero di aver potuto dare qualcosa a questa bellissima cerimonia, augurandovi veramente di cuore a tutti voi, a ciascuno di voi, di saper prendere il mare. Siete partiti sicuramente da porti sicuri che sono state le vostre famiglie, se state ben saldi al comando della vostra vita non mettete nessuno alla barra del timone, dovete essere voi con le mani sulla barra del timone, tutte le tempeste le supererete, non c'è paura, non bisogna avere paura. Ricordate però che non dovete ascoltare le facili sirene che ogni tanto si sentono del successo, della menzogna, del denaro facile, dovete impegnarvi, duro lavoro, costante lavoro, abnegazione e allora troverete sicuramente la vostra strada e non dovete perdervi, questa è la cosa importante. Diceva Agostino in un famoso passo delle confessioni che leggo perché è talmente bello e ve lo voglio ricordare, diceva gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti dei fiumi, la circonferenza dell'oceano mentre trascurano se stessi. Voi non dovete trascurarvi, questo è l'impegno che spero prendiate verso voi stessi e verso i vostri genitori. Quindi vi auguro veramente di cuore di correre questa corsa, di combattere questa battaglia, di conservare la fede veramente in voi stessi e statene sicuro ciascuno avrà la propria parte. Come spesso ricordo siete vicino ai vostri genitori che vi hanno dato tanto, avete nei loro confronti un debito che non riuscirete mai a distinguere, forse lo estinguerete con i vostri figli, sappiate però che in questo momento la felicità di un padre, anch'io sono padre, è massima e quindi godete ampiamente di questo momento che avete veramente ben meritato. Quando sarete nei momenti di difficoltà, per chi ha la fortuna della fede e della grazia, potete anche recitare qualche tipo di preghiera, ce ne sono anche di laiche e ce n'è una molto bella che ricorre nel film Invictus di Clint Eastwood, io sono anche un appassionato di rugby, forse si vede un po' dalla stazza, e in quella Invictus Nelson Mandela dietro le sbarre si ripete nei momenti di difficoltà questa poesia, dice non è importante quanto stretto sia il cammino, quanto impietosa sia la sentenza, io sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima. Buona fortuna e auguri. Grazie. 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 Grazie.